Renzi al Tg1, centrodestra nelle mani della Lega, lavoro, incentivi del Jobs Act solo perché assume a tempo indeterminato. Berlusconi flat tax con meno tasse su famiglie e imprese, Di Maio senza maggioranza dopo il voto convergenze. Agenzia del farmaco, governo e comune di Milano fanno ricorso dopo i ritardi di Amsterdam, Olanda, iter corretto. USA ha atteso primo discorso di Trump sullo Stato dell'Unione, replica dei democratici affidata al pronipote di Jeff Kay. Tragedia dei vulcanelli in Sicilia, morirono due fratellini, condannati l'ex direttore e un operatore della riserva. Arezzo chiesta all'archiviazione per la madre che dimenticò in auto la figlia sotto il sole, il PM fu amnesia dissociativa. Il calcio nel caos, il presidente del CONI Malago ha due commissari per federazione e Lega di Serie A, coinvolti campioni del recente passato. Coppa Italia subito dopo il Tg1 diretta di Atalanta Juventus.